Copia di un radiocomando rolling code NiceFloor S utilizzando RB Simpli. Per attivare la modalità duplicazione tenere premuti i tasti 1 e 2 di Simpli fino a che il led rosso inizia a lampeggiare. A questo punto rilasciare i due pulsanti. Al termine del lampeggio premere il tasto che si desidera codificare, tasto 1, il led diventa rosso fisso e Simpli è in attesa di ricevere un segnale dall'originale. Disporsi sul lato destro del nuovo radiocomando e premere il tasto del NiceFloor. Il led diventa verde indicando un'elaborazione in corso e poi si spegne e la copia è eseguita. Di questo radiocomando originale entrambi i tasti sono funzionanti e Simpli automaticamente ha registrato sul suo tasto 2 il secondo canale del NiceFloor. Trattandosi di un rolling code perché funzioni è necessario procedere all'attivazione presso la ricevente.